È veramente incredibile, è veramente incredibile quello che è successo oggi pomeriggio, si può dire clamoroso, è appena terminato, in questo momento Ungheria-Francia valevole per la seconda giornata del Girona F è finita con una clamorosa pareggia per 1-1 tra Ungheria e Francia, con vantaggio alla fine del primo tempo, al secondo minuto di recupero del primo tempo, Fiola, e pareggia 66 di Griezmann. In virtù della classifica di questo pareggio clamoroso, la Francia va a 4 punti, attrae il Portogallo, l'Ungheria 1-1, la Germania azzarri, inatteso ovviamente di Germania-Portogallo. Parte molto forte l'Ungheria, con i suoi 60.000 spettatori, grande cuore Ungheria, sfiora il gol due volte alla Francia, quella po' clamorosa con un colpo di taco bellissimo di Mappé, la calcia molto male. Mezzamama alla fine del primo tempo, su assi, sale e un lancio in verticale, molto male la retroguarda, la Francia che si infila dentro la porta, affiola la velocità supra-sonica, tira molto bene, sigla a godere 1-0, il primo tempo finisce 1-0. Nel secondo tempo tutta l'attacco alla Francia, arriva anche un palo del subentrato Dembélé che si è fatto anche male, si arriva e pareggia su, in quel momento dell'Ungheria, lancio, rinvio del portiere, la palla rimbalza male, la fanno rimbalzare più di una volta, si fiora sulla palla da fuori l'area Mappé, fa una bella progressione, palla al centro e grizmo su una ribattita alle portiere, siga a godere 1-1. C'è qualche buona opportunità di contropiede anche per l'Ungheria, poi negli ultimi dieci minuti l'Ungheria si chiude e cerca di portare a casa il risultato, a nulla serve i tentativi finali della Francia di cercare di portarsi a casa i tre punti. Quindi veramente clamoroso, grande cuore Ungheria, per me oggi Francia molto molto deludente, ma grande grande Ungheria, grinta cuore e determinazione. Mettete un bel like a questo video, chi non si è ancora iscritto al mio canale, iscrivetevi, iscrivetevi al mio canale. Un buon prossimo domenica di giornata, dal vostro grande Capitan Napoli, ciao!